Bambini, la fila in fondo, voltatevi per favore. Io sono Nicolà, ho otto anni e voglio raccontarvi la mia vita. Mamma, mamma! Ci sono quelli che amo di più al mondo. La mia mamma... Mi hai fatto paura. ...e il mio papà. Sorpresa! Ha sempre delle belle idee. Perché non te lo sei fatto portare a casa? Costava cinquanta franchi in più, pesa una tonnellata, dove l'ho messa? Ma che serve l'aumento se viviamo come dei poveri ragazzi? Ancora non l'ho avuto l'aumento, figurati. Ma come? Mushboom? Non ti aveva detto? Non è sicuro. Ma allora non dovevamo comprare il televisore. Beh, lo riporto, lo appoggio, che faccio? Non mi stressare, non mi stressare, non sopporto di essere angosciato. Sì, è vero, mamma e papà litigano spesso. Va bene, metterlo lì. Ma alla fine si risolve tutto. Beh, quasi sempre. Nicolà? Sì? Non sposarti mai. D'accordo. Quello che posso dire è che la mia vita è bellissima. E non voglio che cambi. E non voglio che cambi.